Potrebbe esserci una nuova pandemia nel 2022, stando a quello che è stato detto, o meglio predetto, da Baba Panga, la famosa profetessa della Bulgaria, che già ha previsto nel 2020 la pandemia dicendo che avrebbe coinvolto tutto il mondo e cambiato diverse abitudini, dalle più spartane, dalle più complicate e complesse. Ma sembra che abbia anche affermato che sarebbe durata per molti anni andando a coinvolgere anche il 2022. Gli umani si abitueranno a un nuovo virus, così avrebbe detto nella profezia Baba Panga. Non viene specificato null'altro, ma Baba va a parlare di diversi disastri di tipo naturale, una previsione coerente nel contesto in cui attualmente viviamo, perché se ben vi ricordate abbiamo passato un 2020 veramente da incubo, dove veramente non potevamo fare nulla, non potevamo uscire da casa, siamo stati costretti a rimanere a casa, rientanati come dei topi, come dei topolini, e non eravamo liberi come in teoria dovremmo essere e dovremmo esserlo. Insomma, veramente, c'è chi si sta spaventando alla teoria, ma è la profezia di Baba Panga, questa donna pulvera. Il video termina qua, iscrivetevi al canale Narrato Italiano, commentate, fatemi sapere cosa ne pensate. Un saluto nei cari e al prossimo video.